rete 2000 web vi invita all'ascolto di autori e letture uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori dell'edizione 03 presenta gianfranco iovino con interviste e informazione culturale con interviste e informazione culturale con interviste e revisione a cura di QTSS buongiorno a tutti siamo al nuovo anno primo appuntamento dell'anno hai portato lo scioprano? non l'ho portato perché è finito vedo che ci sono tanti cioccolatini e quanto altro ma soprattutto il dolce e il bello di questa prima del 2022 parte proprio da una esclusiva sono riuscito con grande fatica ma con grande entusiasmo ad avere qui in studio mi sponso a coloro che permettono di avere questa finestra culturale che ha a rete 2000 c'è Giovanni Proietti che mi sta guardando e aspetta di salutarci buongiorno a tutti buongiorno Giovanni ma soprattutto senza offesa c'è lei Enza di Giovanni buongiorno buongiorno a tutti è proprio quando si parla di c'è Giovanni ed è Enza di Giovanni ma non è che è un accrescitivo che è Enza di Giovanni ma è il suo nome proprio no ma soprattutto dopo tante ricerche da parte di Enza ha trovato Giovanni credo che è un fiore all'occhiello dell'edizione 03 di cui oggi Enza in questa mezz'ora di interviste e di intrattenimento ci parlerà di tutto e di più perché lei è una donna, è un architetto che si è lanciata in questa avventura oggi è l'edizione 03 possiamo dirlo con grande entusiasmo e orgoglio è una delle case editrici più vantaggiose per chi vuole scrivere per chi vuole diventare un libro perché non è soltanto vedere una bozza pubblicare un libro e farlo diventare poi una copertina sui online è qualcosa di più è la cura, è l'attenzione è la possibilità di non stravolgere i testi perché noi non abbiamo gli editor che ci cambiano completamente il testo ma andiamo nei minimi dettagli quando l'ho incontrata 3 o 4 anni fa le ho detto che secondo me l'edizione 03 era qualcosa che andava oltre uno scritto è quella virgola che senza la quale è disposto non ha senso buongiorno Renzi buongiorno Gianfranco grazie per averci ospitato grazie perché siete voi i nostri portavoce ufficiali della nostra casa editrice noi siamo felicissimi di fare questo percorso con voi da diverso tempo e dare ai nostri autori l'opportunità di lanciare i loro volumi i loro titoli attraverso il vostro canale che sappiamo che è seguitissimo quindi per noi è una grossa opportunità e grazie per aver invitato ufficialmente anche noi per poter rappresentare la nostra casa editrice grazie iniziare così nuovo anno è perfetto e lo iniziamo raccontando brevemente da quando nasce l'idea di edizione 03 fino ad oggi come nasce edizione 03? come dicevi prima io sono architetto ho fatto l'architetto ho svolto la professione per 28 anni quindi ho un qualche anno e la crisi del 2008 mi ha sfidato io stavo costruendo degli edifici all'estero in quel periodo le cose andavano molto bene improvvisamente è arrivata la crisi economica sono dovuta rientrare in Italia e nel giro di un anno e mezzo inventarmi un nuovo modo di portare a casa quello che mi serviva per pagare le bollette l'affitto quello che tutti abbiamo dovuto vivere vivere quotidiano esatto e in quel periodo molti imprenditori e professionisti hanno dovuto vivere questo tipo di esperienza quindi siccome già lavoravo a Politecnico di Milano e portavo in tesi di laurea gli studenti ho sempre lavorato nell'ambito delle pubblicazioni ovviamente tecniche in ambito della mia professione e traducevo anche libri dall'inglese all'italiano sempre solo per il mio settore ma in ogni caso sono sempre stata coinvolta nell'ambito dell'editoria seppur specifica dell'architettura tra il 2012 e il 2014 ho quindi svolto un affiancamento ho un editore di Verona mi sono trasferita a Verona per cercare nuove opportunità e ho conosciuto Giovanni perché l'editore per il quale lavoravo stampava i suoi libri proprio presso la casa editrice dove lavorava Giovanni in quel periodo tutti e due abbiamo capito che bisognava fare qualcosa di nuovo per risfondare nell'ambito proprio dell'imprenditoria io con questo know-how che avevo nell'ambito letterario se vogliamo e Giovanni nell'ambito delle stampe ormai ve lo dirà dopo 30 anni in questo ambiente abbiamo unito le nostre forze ci siamo inventati questa soluzione particolare per gli autori che possono pubblicare con noi il loro titolo con veramente una spesa minima per riuscire ad avere il libro registrato pubblicato in tutti i cataloghi e senza avere magazzino perché con il know-how di Giovanni che vi spiegherà più tardi eventualmente se io gli farei questa domanda non credi però abbiamo scoperto come riuscire a stampare una copia alla volta solo dopo che è stata venduta ci sono molti stampatori che stampano poche copie però noi abbiamo ottimizzato i tempi e i lavori per riuscire a fare una copia alla volta dando un margine di guadagno all'autore abbastanza alto e dando a noi stessi la soddisfazione di vedere qualcuno qualche autore in erbe ma anche no perché abbiamo anche autori abbastanza famosi di cui parleremo eventualmente dopo che hanno deciso di fare il loro percorso con noi perché effettivamente hanno un guadagno diverso rispetto all'editoria tradizionale non faccio alcun nome ma è di conoscenza comune quindi i nostri autori ci hanno amato da subito e nel giro di sei anni abbiamo quasi raggiunto 300 titoli per una media di circa 120 autori quindi qualcuno ha già pubblicato più di un libro nel corso di questi anni quindi siamo una piccola casa editrice ma ci riteniamo di aver raggiunto degli scopi importanti nel giro di poco tempo quello sport che avete sempre promosso noi non cerchiamo talenti noi li creiamo li creiamo perché lo facciamo attraverso loro stessi adesso Giovanni che tra un po' sta addormento perché lo vedo un po' assente è giusto che si presenti anche lui perché lui è un braccio fondamentale di questa macchina perfetta quasi noi cerchiamo di raggiungere la perfezione non ci siamo vicini ma ci proviamo con molti sforzi io sono 30 anni che sono nella grafica e sono uno di quei pochi ragazzini che quando erano alle medie sapeva già che cosa voleva fare da grande mia mamma ha detto io voglio andare là a San Zeno e voglio fare il grafico e ha funzionato sono ancora in settore quindi fortuna ho provato la cosa giusta ho passato un po' tutte le fasi perché non so se era fortuna o sfortuna ma l'ambiente della stampa è sempre stato ricco di cambiamenti sia a livello aziendale che non quindi sono passato dalla fotolito alla fotocomposizione alla stampa ho immagazzinato parecchie conoscenze sui processi produttivi che mi hanno portato appunto a trovare il modo per evitare di fare magazzino cioè la cosa interessante su questo è che noi riusciamo a fare una copia al costo che se fossero 400-500 copie quindi mantenendo i prezzi bassi per dare la marginalità e in tempi tecnici pratici per il mercato infatti Amazon ci costringe a spedire le copie massimo in tre giorni quindi noi in tre giorni da non avere nulla in mano realizziamo il libro una volta pubblicato ovviamente gli impianti sono un'altra storia io sono un veronese ignorante tra virgolette quindi la la porto la conoscenza di Enza ha coperto tutto con l'aspetto culturale che a me mancava anche se mi ero già buttato sull'editoria prima di lei perché nel mio percorso ho fatto arti marziali e facendo arti marziali ho scoperto che molte delle arti marziali sono state influenzate dalle arti marziali italiane che ai tempi nessuno sapeva esistessero quindi ho voluto pubblicare dei libri sulle arti marziali italiane mi dicevano che ero matto e quindi ho dovuto aprire una casa elettrica perché se no nessuno ne lo pubblicherà se lo stampatore matto e con qualcosa da dire ho pubblicato dei libri e da qua è nato il nostro rapporto poi praticamente per spiegare anche meglio dove vi colunate nell'editoria esiste editoria non a pagamento che è sempre più difficile da raggiungere e trovare se non sono i grandi marchi ma le maggiore si legano poi all'agenzia di stampa o sono quelli che ti pubblicano se dai il contributo se acquisti delle copie se dai comunque all'editore stesso la possibilità di ripagarsi tutta la spesa economica e dietro acquisti c'era il 90% e forse più delle case editrici e tra queste due aree c'è la bisettrice che segnala invece quelle case editrici piccole che non investono eccessivamente in promozione in pubblicità in tutto quello che potrebbe sembrare poi effimero fumoso ma sull'autore dicendo noi crediamo nel tuo testo lo elaboriamo per renderlo leggibile al massimo e fare in modo che anche edizioni 03 sia orgogliosa sia partecipi con il testo stesso ma se va avanti la curiosità l'interesse per la pubblicazione va avanti anche sia la stampa sia le royalties e sia quanto altro per cui c'è un coinvolgimento generale non è più sei l'autore queste sono le mille copie adesso venditele tu e non è neanche la major che invece vende solo i titoli che vuole voi siete quella realtà che se uno è stimolato a scrivere qualcosa ci si incontra ci si mette a taurino per cercare di trovare quelle combinazioni esatte per fare la famosa prima copia e capire quanto si è forte e quanto si vuole intraprendere questa attività giusto Enza? si è giusto e parto da un dettaglio che vorrei forse approfondire si quando gli autori vengono da noi la prima cosa che noi diciamo a loro è che loro devono credere nel loro prodotto loro devono credere nel loro contenuto perché noi per politica decidiamo di non giudicare assolutamente ovviamente stiamo parlando di molte categorie quindi non siamo specializzati in una categoria solo narrativa solo fotografico oppure solo naturalistica o solo cucina e ricette noi facciamo siamo aperti a tutte le categorie e la prima cosa ripeto diciamo all'autore quando viene a proporci il proprio testo e ci chiede ovviamente cosa ne pensi noi rispondiamo non te lo diremo mai perché noi non vogliamo dire a loro cosa ne pensiamo perché non vogliamo assolutamente giudicare i loro contenuti quello che faremo è migliorare perfezionare approfondire arricchire quello che loro ci consegnano cercando di renderlo perfetto si diceva prima il più possibile vicino alla perfezione dal punto di vista della grammatica dell'ortografia di tutta la parte legata alla linguistica e alla parte letteraria alla fotografia in questo caso diamo contributi grafici con ovviamente competenze legate alle gambe colori e quant'altro di cui è espertissimo Giovanni dopo di che però noi lasciamo all'autore scegliere come lui desidera portare a termine il suo prodotto ovviamente lo consigliamo anche dal punto di vista delle dimensioni delle finiture cartonato cucito verticale quadrato o un classico A5 di testo in bianco e nero o a colori però alla fine noi semplicemente diamo dei suggerimenti ma vogliamo che l'autore sia contento del suo risultato e quando ha in mano il suo bambino lui dice questo è mio la cosa poi strategica che noi facciamo proprio perché possiamo permetterci di fare una copia alla volta è fare più bozze per arrivare alla prima copia definitiva quindi l'autore ha la possibilità di vederlo e riguardarlo mi piace la plastica pensavo che opaca fosse meglio che lucida pensavo che la carta avorio mi ingiallisse troppo le immagini invece me le risalta quindi noi facciamo diversi tentativi fino a quando l'autore non è contento e ripeto lasciamo a lui la scelta definitiva in più quello che dicevi prima sul discorso legato alla pubblicità o alla distribuzione è vero che non la includiamo proprio perché facciamo pagare proprio soltanto il costo alla fine dell'impianto della prima copia però come vedi siamo qui in Radio Rete 2000 e questo è un programma nostro che sponsorizziamo noi e per cui noi non chiediamo assolutamente nessun contributo ai nostri autori noi facciamo articoli sui giornali che tu sabientemente scrivi e pubblichi quindi noi diamo a disposizione anche un ventaglio di opportunità all'autore da parte nostra gratuita e poi eventualmente lo aiutiamo anche a scegliere delle vie più impegnative ma il costo è a carico suo tutto si può dire di edizione 03 tranne che una stamperina la famosa stamperina vado lì ti porto una bozza di testo per te sarà il nuovo promessi sposi il nuovo manzoni che deve essere pubblicato assolutamente poi resta di un magazzino di mille copie non c'è distribuzione qui invece la collana non esiste in edizione 03 si stampa di tutto e di più l'importante è di avere comunque una qualità di insieme è di base e soprattutto la scelta editoriale è fatta tra l'editore e l'ordine Giovanni è bello che è difficilissimo fare i testi fotografici libri fotografici si si toglie un grosso problema sotto l'aspetto dei testi ma di solito chi fa le foto ama quello che vede quello che ha fotografato e ama di più l'idea della fotografia che ha di quello che è realmente la fotografia purtroppo o per fortuna il nostro sistema prevede che noi stampiamo sia quando è in digitale che quando è in offset con un livello di qualità standard legato all'offset che però prevede anche che non ci siano i colori particolari che spesso ci sono nelle foto e far accettare all'autore il compromesso dovuto alla stampa perché sia ripetibile e poi vendibile in qualunque sistema in qualunque numero non è assolutamente facile infatti che si sposa molto con quello che diceva prima Renza e con la domanda prima di tu che hai fatto tu noi diciamo sempre che non siamo i fornitori o il cliente a seconda di come vedono loro l'editore ma siamo dei soci il prodotto che viene fuori viene fuori da scelte condivise cercando di accontentare l'autore ma dandogli quelle conoscenze che gli saranno per stargli al mercato perché altrimenti dopo il libro rimane una cosa che uno si tiene per casa vendate il supporto infatti e cambia molto infatti il rapporto con l'autore in base a quanto accetta questo accordo cioè se lui vuole collaborare con noi a tutte le porte a parte non ci sono costi perché ci sono si recuperano dei margini dal progetto che si fa assieme se vuole un libro da curriculum o per il matrimonio di sua figlia ovviamente sono discorsi diversi certo ci si adatta alla necessità o comunque all'idea dell'autore in due anni di programmi noi ne abbiamo ospitati davvero tanti di personaggi e di persone abbiamo spaziato dalla canoa alla cucina e chi più ne ha più ne metta adesso parleremo di epopee mazziniane Michele qual è il testo che ti è piaciuto di più presentare in questi due anni? ma ci sono stati tantissimi autori che mi hanno colpito ma al di là di tutto è stata una collana che mi ha colpito che è stata veramente una collana interessantissima anche per l'ascolto che ha ricevuto qui dalla nostra radio e parlo della collana del drago quindi c'era questa serie di libri che parlava ognuno di uno sport e differenziando appunto quelli che sono le attività che vanno appunto dalle arti marziali alla canoa ai tuffi alla corsa ai bici cioè veramente è stata penso che sia una di quelle collane interessanti e tra l'altro molto apprezzate anche dal Panathon che è un'istituzione qui a Roma e di conseguenza questa è una cosa che mi ha piaciuto moltissimo un po' uno stacco musicale e poi continuiamo con edizioni zero buon ascolto con Radio Rete 2000 che dici parliamo va pensa ma qual è il testo che ti ha entusiasmato di più tra quelli fino ad oggi pubblicati su tutti non posso dire che ho un libro preferito il mio entusiasmo nasce dalle cose che non conosco quindi se arriva l'autore come per esempio la collana della coda del drago di cui menzionava Michele arriva con la storia appunto del canoista sconosciuto che ha vinto una medaglia d'oro e poi improvvisamente non ha più fatto carriera piuttosto che un tuffatore invece plurimedagliere alle olimpiadi e che nello stesso tempo diventa il capo dei Nox della squadra delle forze dell'ordine quindi ho lanciato di peso esatto io penso che ogni volta che mi arriva un titolo un testo la mia la mia idea è scopriamo di cosa si tratta e quindi l'entusiasmo parte da lì poi molto poi c'è anche l'ultimo per esempio che abbiamo pubblicato che è un libro proprio sull'architettura razionalista a Valdagno di un collega mio di l'architetto Giorgio Ferrari partiamo arriviamo su testi quindi molto complicati ricchi di foto di immagini di stampe di tavole sinottiche di leggende e quindi anche la composizione grafica diventa impegnativa quindi la cura del dettaglio si raffina abbiamo altri episodi per esempio la coda del drago da dove è arrivata è arrivata perché ad Alberto Scemma giornalista ormai molto conosciuto italiano giornalista sportivo di altissimo livello ha saputo di noi tramite il contenitore che avete avuto qui ospite forse è stato il primo ad aprire i programmi di autori letture due anni fa che si dedica adesso nella sua veneranda età alla realizzazione di fiabe per bambini per i suoi nipotini quindi ha pubblicato con noi addirittura dodici volumi di fiabe nel giro di due anni illustrate dal suo amicono che con suocero penso qualcosa del genere comunque l'altro nonno che ha illustrato con acquarelli eccetera e da queste favole per bambini è arrivata l'amicizia fra il conte Ninguarienti e ad Alberto Scema che poi è arrivato e ci sta facendo sfornare un libro al mese sullo sport così come invece Giovanni che è amante delle arti marziali ed è un po' incontrosenso con me perché lui ci vuole educare con il bastone io parto dal presupposto che se uno ha il bastone significa che si muove poco ma invece lui ne ha fatto proprio una disciplina ed è convinto che basta anche una penna o un bastone per potersi difendere vero? Il fiore dei liberi diceva nel 1400 che quello che una spada fa lo farebbe con qualunque altra cosa e capito di che? e lui io ho una pistola per dire ma anche la pistola è un ostacolo un po' più difficile da affrontare effettivamente però da disarmati il bastone fa da mezzo di misura perché non è veramente un'arma ma se una delle conoscenze diventa un'arma molto molto efficace quindi noi la utilizziamo per prendere e per capire cosa uno strumento può fare anche quando non è propriamente uno strumento questo per far capire che si parla davvero di tutto e di album fotografici di signorini di Albano sono stati davvero degli incontri molto interessanti Enza siamo alla fine perché poi dobbiamo ospitare un autore dell'edizione 03 chiudiamo facendo proprio un esempio io sono un autore ho scritto qualcosa che ritengo interessante la vita di Michele per esempio vengo da voi e dico stampiamo voglio far diventare questo mio testo un libro cosa succede? viene sottoposto a me il testo io faccio delle prove di revisione a caso proprio prendo tre pagine a random tra la prima parte il centro e il fondo libro faccio una prima revisione grammaticale ortografica per far vedere il livello di qualità del testo che mi è stato sottoposto anche perché ovviamente per il lavoro che dovremmo fare c'è un costo il costo può variare a seconda se il libro è molto raffinato e già pronto per essere immaginato mettiamola così di solito no perché qualche refuso scappa sempre oppure se invece c'è bisogno di un intervento più importante e a quel punto si sottopone all'autore una sorta di bozza di contratto calcolando il numero di caratteri quindi il numero ipotetico di pagine che potrebbero risultare si fanno proposte sul tipo di dimensione di rilegatura che il cliente si aspetta magari a volte vuole un cartonato piccolo e noi gli suggeriamo guarda forse non è il caso perché soltanto una copertina ti viene a costare due euro in più a copia quindi gli diamo dei suggerimenti dopodiché nel momento in cui il libro è pronto passa all'impaginazione quindi alla sezione di produzione di Giovanni nel frattempo però se arriva un fotografico per esempio io faccio revisione anche delle didascalie che a volte sembra che siano delle banalità in realtà sono molto più elaborate di un testo corrente e nel frattempo contemporaneamente Giovanni analizza la struttura delle immagini ecco Giovanni arrivate il testo e cosa succede? allora andiamo avanti a produrlo fino ad arrivare a dargli in mano la prima copia dove può vedere la qualità di stampa fotografica impaginazione e fare le sue scelte c'è una cosa particolare però che bisogna specificare perché anche in questo siamo diversi dalle altre case elettrici noi il primo approccio che abbiamo col cliente è quello di rendergli evidenti tutti i costi che realmente ci sono per poi andare a capire in base al rapporto che ci sarà con lui se i costi dovrà pagarli oppure no però deve essere consapevole che produrre un libro ha un costo certo e questo costo poi magari viene assorbito completamente da noi dalle vendite ma saprà che costo è anche perché da lì poi si capisce quanto l'autore tiene il suo libro quanto farà le presentazioni quanto lo promuoverà e quanto ci darà una mano con le vendite questa è la parte principale senza andare credo nel dettaglio economico fare un libro con edizioni quando dico fare dovutamente perché lo si crea insieme che costi si può affrontare in un'autore secondo me fotografico parte dai 450 euro ed è in vendita in tutta Italia un libro di testo dipende dalla mole del testo perché la revisione influenza ma si parte dai 700-800 euro in su ma ripeto questi costi spesso non vengono messi in conto all'autore vengono trattenuti dai primi venditi cioè gli si dice tu inizia a guadagnare dalla 101esima copia in su sì ci possono stipulare vari accordi proprio della famosa post produzione in base ai progetti e alle idee che l'autore ha per poter divulgare il suo volume e i libri sono vendibili sono acquistabili comunque su tutte le piatte forme online sul vostro sito giusto? assolutamente sì viene attribuito un ISBN quindi entra in tutti i cataloghi di informazioni editoriali di conseguenza lo si trova in tutti i canali di vendita online e offline una raccomandazione nelle librerie blasonate spesso viene comunicato che il libro non c'è a catalogo beh è chiaro che noi non siamo sul catalogo delle librerie con certi nomi ma siamo nei cataloghi nazionali e internazionali quindi il nostro libro è sempre rintracciabile bisogna fare lo sforzo nelle librerie di andare a prenderlo e chiedercelo c'è il codice in equivoco l'ISBN per cui è vendibile bene siamo ai saluti perché dobbiamo passare l'autore che dobbiamo ospitare siamo già in ritardo Enza facciamolo in un modo che i radioascoltatori si incuriosiscano e vadano sul sito o vi contattino cosa possiamo dire a questi che hanno il sogno nel cassetto il sogno nel cassetto era un nostro slogan che qualcuno poi ci ha ci ha sottratto in tempi non sospetti se hai un sogno nel cassetto e un desiderio hai le poesie che hai scritto quando eri ragazza o la mamma che ha le sue ricette particolari fatte nella sua cucina di casa o se hai invece un romanzo una storia noi abbiamo pubblicato dei gialli rosa molto belli molto particolari o se hai appunto una raccolta fotografica che o addirittura noi lavoriamo molto con le aziende che hanno cataloghi mobili piuttosto che rubinetterie se l'azienda ha intenzione di fare un libro sulla storia dell'azienda stessa o del direttore d'azienda del fondatore allegandolo eventualmente ai prodotti di catalogo noi lo trasformiamo in libro e questo è molto importante da far sapere perché gli SBN fa risucchiare il libro prima addirittura del nome dell'azienda quindi se uno cerca il libro di nome e cognome SRL grazie al libro Google fa risucchiare nei primi dieci della prima pagina quindi è molto importante avere una pubblicazione perfetto e invece Giovanni qualche testo qualche anticipazione di questo 2022 qualche faremo faremo del premio letterario un programma su educazione stradale una serie di cose importanti ma tenete d'occhio il sito di Rete 2000 perché ci sarà una sorpresa fra qualche settimana questa è una cosa di cui stiamo progettando seguitela lì così lasciamo la sospanza l'indirizzo web edizioni03.com con 0,3 numero non abbiamo il tempo per approfondire altre cose come il premio letterario città di Verona che siete coloro che l'hanno istituito che tra non molto avrà la sua seconda edizione e basta venite a trovarci quando volete perché voi oltre ad essere sponsor mi piace questo questo spot voi non cercate talenti vi create grazie 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 di tutto bravissimi e grazie di essere stati qui in Radio nel 2021 grazie avete ascoltato Autori e letture una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03 ha presentato Gianfranco Jovino